Ciao a tutti! Visto che sta arrivando l'estate e inizierete a essere a dieta per prepararvi per la prova costume e così via, quindi inizierete a mangiare insalate, cerchiamo di dare un taglio alla solita insalata triste. Oggi facciamo un'insalata con il mango e magari nelle prossime settimane vi proporrò altre insalate un po' così sfiziose per dare delle alternative. Per questa ricetta utilizzeremo un mango di piccole dimensioni, due cetrioli piccoli, della lattuga, degli spinaci, questi sono spinaci d'acqua, voi potete utilizzare gli spinaci freschi, in questo periodo dovrebbero trovarsi, dei crostini che andremo a fare con del pane raffermo, degli anacardi e poi se vi piace, a me non piace, della cipolla, qualche anello di cipolla fresca, se è la cipolla rossa di Tropea è ancora meglio. Un'altra cosa molto importante per questa ricetta è il condimento, infatti con metà del mango, che avanzeremo perché ne metteremo soltanto metà nell'insalata, andremo a fare una salsina, quindi vi servirà per la salsa mezzo mango, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, mezzo succo, che è il succo di mezzo lime e mezzo cucchiaino di senape, io ho la senape in grani quindi utilizzerò quella, voi potete utilizzare la senape che avete in casa. Bene, mettiamoci al lavoro. Bene, mettiamoci al lavoro. Naturalmente ho comprato il mango sbagliato perché quelli buoni per l'insalata sono verdi fuori e gialli dentro. Questo dentro è bianco, sono quelli che sono aspri, che loro tagliano a fette e mangiano intingendoli nel sale, zucchero e peperoncino. Quindi sono di nuovo uscito e ho comprato quello classico, fuori è giallo dentro arancione, quindi non potete sbagliarvi, soprattutto in Italia perché quelli che arrivano allo Sud America è solo una qualità, fuori verdi rossi dentro arancioni, quindi sono dolci, vanno benissimo. Ora adesso andiamo a tagliare il mango, tagliamo ancora i crostini, l'insalata e prepariamo la nostra insalata, poi andiamo a preparare il condimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, poi naturalmente io aggiungo sale e pepe, lì va a gusti e adesso andiamo a preparare il condimento. Grazie. Grazie a tutti. bene io vi saluto prima di mangiarmi la mia bella insalata al mango ricordatevi di iscrivervi sotto al canale lasciamo il mi piace guardare gli altri video condividere questo video con i vostri amici e mi raccomando se provate a farla fatemi sapere cosa ne pensate ciao ciao